...della libertà, della pace, i temi dell'antifascismo e della resistenza. Questo continuo è stato il tuo tempo per i valori della resistenza, per il bene del paese, rimasti sempre nel tuo cuore anche negli anni della tua malattia. Non avevi sempre, negli anni trascorsi delle case di cura, la resistenza, l'antifascismo e soprattutto l'ANPI, che ha costituito la tua scelta di vita, la tua ragione di vita. Grazie Tito per tutto quello che hai fatto. Stanno a raccogliere la preziosa verità che ci hai lasciato e datersi per i valori trasmessi dalla resistenza, dall'antifascismo e dalla Costituzione Repubblicana.